allora in storie velocissimamente facciamo vedere questa novità la new entry della new beta anche lei però questa volta ci avete chiesto senza collo sotto c'è la righettina e va bene però questo è un giro collo la nuova beta è in tantissimi colori ve li faccio vedere tutti velocissimamente il primo questo con il rosa con il fucsia e la barretta qua sotto nera e anche qua la fascia ve la faccio vedere nella giro è una scatoletta in due taglie come l'altra beta quella col collo alto questa è un giro collo con il bottoncino applicato e vi faccio vedere la new beta viene anche lei scontata va a 49 ok se il mio registro mi stoppa righetta nera con verde e bianco ottaneo con il blu e con il tabacco blu bianco e rosso molto marinara questa ma ce ne sono ancora dei colori c'è l'ultimo verde col pistacchio e bianco e reti sono sincero ho provato a resistere sono come le morositas non si riesce a resistere ma sono bellissime ma porca miseria testo zitto tutto il video ma non si può non si può non si può non si può pensavate che non c'era ecco è una bomba sono questo è l'ultimo colore della new beta ma volevo dirvi che a grande richiesta perché erano quasi terminate ci avete chiesto le betta quelle altre anche col collo sono ritornate oggi non ce ne sono tantissime però ce ne sono e sono ritornate però questa è la news e quindi affrettatevi perché questa è la maglia di birba wow queste veste bene bella è una bella taglia è bella bella questa è la taglia sm poi c'è anche la ml sono due taglie è sempre una viscosa calda riciclata anche lei e sono secondo me simpaticissime provare per credere ne vediamo di più no va bene ciao